Noi giochiamo sempre, noi studiamo tra continuità e discontinuità, la continuità è un pregio e la discontinuità è un pregio. Questa volta abbiamo osato, con i due giorni, la gente si fa ordinaria, ci ha portato anche nuovi idee, nuovi di uccidamento, nuovi di colparane, nuovi chiaramente. Questa è una mostra che certamente apre oggi, il messaggio è stato chiestoso, la gente apre oggi, sono sei mesi delle quali attrezziamo il punto, perché alla fine il giornale è stato aperto a seguiti proprio perché vuole parlare con i suoi visitatori, quindi aspetteremo la fine di capire di che punto siamo riusciti a sollecitare l'esercitatore, ma è stato quello di dare chiare interpretazioni e il fenomeno artistico in generale per l'arte contemporanea.